In questi giorni, l'amministrazione comunale di Novara ha incontrato una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale. L'iniziativa ha avuto lo scopo di illustrare le modalità operative adottate dall'azienda nell'esercizio della rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte e di ricerca preventiva delle dispersioni attraverso tecnologie all'avanguardia. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, a piedi mulera.